Oggi è stato un grande giorno, ho iniziato un po' con il terremoto, però il Signore è intervenuto anche questa volta e la gioia adesso è veramente grande per questa bella festa che la parrocchia mi ha organizzato. Un grazie di cuore a tutti, vi chiedo di pregare per me. Un abbraccio a tutti e grazie ancora.